La Befana su Teleferica Taranto ha fatto breccia sin oltre oceano. Nel giorno dell'Epifania, come vi avevamo raccontato, all'ospedale Santissima Annunziata, il soccorso alpino e speleologico pugliese ha driblato l'enorme anticontagio e ha messo le proprie competenze al servizio dei più piccoli ricoverati. Una inedita speleo Befana, si potrebbe dire. Presto la notizia ha abarcato i confini ragionali, meritando addirittura l'attenzione dell'emittente americana CBS News Path. D'intesa con la direzione ASL, i soccorritori addestrati a muoversi in ambiente impervio hanno attrezzato una teleferica obliqua generalmente utilizzata in grotta per superare in altezza ostacoli o meandri con crepacci oppure in territori impervi come le gravine dell'arco ionico tarantino per passare da uno spalto all'altro. Stavolta però lungo la teleferica c'era la Befana che con la scopa ha portato alcuni doni offerti dall'azienda Martinese 2S SRL a tutti i bambini ricoverati evitando però ogni contatto.